Buonasera a tutti e ben ritrovati in apertura di telegiornale La Cronaca. Come avete visto nei titoli, torturavano e violentavano giovani donne costringendole a prostituirsi in manette a Firenze una banda di sette rumeni. Gli aguzzini erano quasi tutte donne. Susanna Bonfanti. Una donna che vaga in stato confusionale sul fiorentino viadotto dell'Indiano, claudicante e conferite su tutto il corpo. Una donna di soli 19 anni che è soprattutto terrorizzata. Anna, questo è il nome di fantasia con la quale i carabinieri poi la chiameranno, in questo stato ha il coraggio di denunciare l'incubo che ha vissuto per giorni dopo essere stata comprata per 400 euro in Romania. Anna è stata resa schiava, segregata al buio, perché non voleva prostituirsi, subendo torture e sevizie anche attraverso strumenti che saranno trovati in uno scantinato del centro di Firenze quando i militari scopriranno il posto, vedranno che l'orrore descritto era vero. Talvolta le sevizie si spingevano anche troppo, ma le sevizie erano anche psicologiche e mi fermo qui. Anna è stata violentata da un gruppo di persone, che i carabinieri scoprono essere quasi tutte donne, che la ragazza farà arrestare grazie alla sua ottima memoria, perché ricorda i loro soprannomi. Non si tratta di una vicenda che vede soltanto lo sfruttamento della prostituzione, ma per la prima volta, su indagini coordinata dalla DDA di Firenze, il magistrato ha vincolato il reato alla riduzione in schiavitù. Le arrestate sono donne che un tempo hanno subito la stessa sorte di Anna. Quelle che oggi erano a guzzine, ieri erano state vittime e non sentivano il peso di quello che andavano a fare. I carabinieri hanno arrestato anche il capo dell'organizzazione, l'unico uomo che negli scorsi giorni stava rientrando dalla Romania. Con sé aveva portato un'altra giovane donna, che avrebbe dovuto sostituire Anna, ormai fuggita. Giulia, anche in questo caso un nome di fantasia, è stata salvata proprio grazie a colei che l'aveva preceduta nella Camera dell'Orrore. Quasi due chili e mezzo di cocaina sono stati sequestrati dagli uomini della Guardia di Finanza. La droga era pronta per le notti dell'estate fiorentina. Aveva un vero e proprio laboratorio per la produzione di dosi di cocaina destinate al mercato dello spaccio fiorentino in uno scantinato della sua abitazione. Per questo motivo è finito in manette un 43enne albanese con precedenti penali proprio per droga, controllato dagli uomini della Guardia di Finanza che sono riusciti a risalire al laboratorio. Noi l'abbiamo seguito perché sapevamo che questo aveva questa attività. Poi siamo andati in casa, il suo nervosismo, poi abbiamo fatto una perquisizione, lui cercava di celare una chiave, quindi ci ha portato di lì a trovare tutti i nascondigli, quindi anche le pertinenze della sua abitazione. Noi poi abbiamo scoperto 2,5 kg di cocaina, 11 kg di sostanza da taglio, una pressa per confezionare i panetti di cocaina e le monite false. La cocaina, che nel laboratorio era nascosta dietro alcuni pannelli di cartongesso e sigillata in confezione di plastica, avrebbe avuto un valore sul mercato di oltre 2 milioni di euro. Il denaro che è stato sequestrato all'albanese però era falso, altro elemento su cui le fiamme gialle stanno indagando. Dobbiamo accertare se era provento della vendita, quindi c'è stata una truffa anche nei confronti dello spacciatore oppure avesse anche lui, insomma, si dedicasse anche allo spaccio di monite false. Due tragici incidenti, un ragazzo di 16 anni è morto la notte scorsa in un incidente accaduto appunto sulla strada che conduce da Grosseto a Istia di Ombrone. Secondo la ricostruzione della polizia stradale, Ciro Cosmo, studente, è stato tamponato da un Audi A3 mentre stava svoltando a sinistra in una strada laterale. Questa mattina invece un uomo di 39 anni, Roberto Solfanelli, è morto nello scontro tra la sua moto e un camion. L'incidente è avvenuto intorno alle 10 nel comune di Cortona, in provincia di Arezzo, dove l'uomo risiedeva. Ed è stata invece trovata morta la donna di 83 anni, di Sesto Fiorentino, scomparsa domenica da un campeggio di Marina di Bibbona. Il corpo di Grazia Curcio è stato trovato a due chilometri dal campeggio dopo l'ennesima perlustrazione in elicottero. Durante le ricerche è morto anche il cane, probabilmente avvelenato, utilizzato dalla protezione civile in queste evenienze. Parliamo adesso di scuola. La regione toscana sosterrà con quasi 5 milioni di euro 92 sezioni di scuole per l'infanzia che sarebbero altrimenti destinate a sparire a causa dei tagli disposti dal governo. Rodolfo Di Paolo. La scure dei tagli per il risanamento del debito pubblico pende anche sul destino di 92 sezioni di scuola per l'infanzia toscane. Servono 4 milioni e 800 mila euro, ma poiché non sono previsti finanziamenti statali, la regione ha deciso di farsene carico, in modo da garantire la sopravvivenza di 44 sezioni già sostenute dallo scorso anno e l'apertura di altre 48 nuove. Si rischia di avere bambini che in Toscana sono riusciti ad accedere agli asili nido e che non avranno posto nella scuola materna. Questo è inaccettabile e quindi abbiamo deciso di concentrare i nostri sforzi sull'infanzia, dove altrimenti non ci sarebbe la possibilità oggettiva dei bambini di andare a scuola. Certo è che sappiamo consapevoli che la sofferenza è anche per quanto riguarda le scuole primarie sul tempo pieno e comunque sull'oggettiva riduzione di organici che non può non impattare anche sul tempo scuola e quindi sulla possibilità di apprendimento dei nostri bambini. Il Ministero della Pubblica Istruzione ha posto un blocco che fissa il numero di sezioni sostenute dai finanziamenti statali in 2680 per la Regione Toscana. Ogni anno vengono escluse una quarantina di nuove sezioni con centinaia di bambini che rimangono in lista d'attesa e molti disagi per le giovani famiglie. Credo che questo veramente sia una risposta immediata ai bambini e alle famiglie perché non dimentichiamoci che anche questa è la base della nostra riflessione e la possibilità di mandare i bambini alla scuola materna è anche una risposta a un'esigenza delle famiglie fondamentale di non essere lasciate sole in un compito educativo molto delicato in quella fascia d'età. e oltretutto anche per permettere loro una migliore conciliazione fra i tempi di lavoro e l'accudimento dei bambini. Nuovo contributo di solidarietà da parte del Consiglio regionale per il disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno del 2009 che ha causato 32 morti. L'Aula ha approvato all'unanimità una proposta di legge presentata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale annunciata nella seduta del 30 giugno dal Presidente dell'Assemblea Alberto Monaci che stanzia ulteriori 100.000 euro per Viareggio. Il Consiglio era già intervenuto mesi fa a sostegno delle vittime del disastro con l'erogazione di 500.000 euro provenienti dal proprio bilancio. In sede di rendiconto del bilancio 2009 il Consiglio ha accertato un maggior avanzo di amministrazione rispetto a quanto stimato in sede di bilancio preventivo stanziando così altri 100.000 euro per Viareggio. E adesso torniamo a parlare di alta velocità a Firenze. I Verdi si uniscono alle altre voci che chiedono una nuova valutazione di impatto ambientale per la stazione di Norman Foster e per il sottoattraversamento della città. Sulla stazione Foster la cui superficie è pari a circa 7 campi di calcio e la cui altezza è di diversi metri circa una cinquantina o sessantina di metri ci sembra un oggetto che tutto sommato non possa essere realizzato senza un'accurata valutazione preventiva. Chiediamo a questo punto di assumere un ruolo politico alla Regione. La Regione dovrebbe intervenire nel dibattito complessivo chiedendo che la valutazione sia fatta anche se è necessario per tranquillizzare i cittadini. I lavori sono già iniziati però sono lavori preliminari. Volendo siamo ancora in tempo. Sarebbe sbagliato e anche un poco democratico far passare il messaggio che ormai è tutto deciso e ormai non si può più far nulla, magari si poteva fare prima. Non è vero. Per evitare disastri come quelli che sono successi a Mugello ma anche quelli che sono successi a Bologna e di cui ogni giorno si hanno notizie di sempre ulteriori peggioramenti, di sempre ulteriori penali da pagare ai cittadini, per evitare questi disastri si deve essere sempre in tempo. Andiamo ad Arezzo, una delle prime città a privatizzare il servizio idrico dove sono state raccolte ben 20.000 firme per il referendum sull'acqua pubblica. Fabio Frabetti. Record assoluto in provincia di Arezzo per la raccolta firme dei tre referendum che chiedono la ripubblicizzazione del servizio idrico. Le firme raccolte sono state 20.564, di cui quasi 19.000 da parte di Aretini. In sostanza si può ragionevolmente stimare che poco meno dell'8% di tutti i cittadini aretini abbia firmato in provincia di Arezzo o fuori provincia referendum sull'acqua pubblica. Una percentuale record in Italia e probabilmente record anche nella storia di tutti i referendum. Tanto per dare un'idea, se tutti i cittadini italiani avessero firmato con la stessa intensità di quegli aretini, il totale delle firme in Italia sarebbe stato non di un milione, cifra effettivamente raggiunta e superata, ma addirittura pari a 3,7 milioni. A fare la differenza probabilmente le alte tariffe che si registrano ad Arezzo, provincia che per prima ha sperimentato la formula di società mista nella gestione dell'acqua. Questo è un primo risultato frutto di tanti cittadini, tante associazioni e partiti che hanno partecipato attivamente alla raccolta. Giovedì prossimo ci stiamo organizzando, per giovedì prossimo il 22 di questo mese, perché faremo l'estrazione della circoscrizione interna a premi che abbiamo organizzato, anche per autosostenerci perché siamo tutti volontari cittadini che non lavoriamo in questo campo. Faremo una festa dell'acqua conclusiva, avendo avuto questo risultato di essere la prima provincia in Italia, quindi a Polisciano presso la Polisportiva. Parliamo adesso di libri, è il nostro ospite un collega giornalista, Domenico Guarino, nonché scrittore, che saluto. È arrivato al suo quarto libro, il titolo è emblematico, Puttanopoli. Ecco, che cosa dobbiamo aspettarci? Praticamente tutti gli scandali politici e sessuali degli ultimi mesi messi nero su bianco? Eh sì, assolutamente, innanzitutto quello e quindi quella parte di cronaca molto importante della storia recente del nostro paese, che ha visto potenti di vario tipo, fino al Presidente del Consiglio coinvolti in scandali a sfondo sessuale, e poi una riflessione su cosa questo significhi oggi nella società italiana contemporanea. Ecco, tutte dimostrazioni che ci dicono di quanto sia forte il legame tra sesso e potere. Beh, questo è un fatto, se vogliamo, anche storico, e poi si riscontra anche in altri paesi. Diciamo che in Italia raggiunge dei vertici che sono sconosciuti, sia nel tempo che nello spazio, e soprattutto da conto di una società profondamente modificata nei costumi e nella morale. Io racconto anche una mia interpretazione su come questi scandali siano possibili e su come in realtà abbiano generato meno stupore e meno indignazione di quanto ci sarebbe atteso. Ecco, poi tra l'altro scandali che riguardano indistintamente destra e sinistra. Sì, assolutamente. Lo scrivo già nell'introduzione. È un paese particolare, questo, in cui sembra che le questioni legate alla morale sessuale siano questioni di partito. In realtà non è così. Purtroppo il tema è quello di come oramai il sesso sia diventato una moneta di scambio che viene naturalmente e tranquillamente pagata per ottenere degli avanzamenti di carriera oppure, come dimostra la recente inchiesta su cosiddetta G8, grandi eventi, viene messa a budget per riuscire ad ottenere degli appalti o dei favori dal potente di turno. Ecco, quindi un'indagine sociologica dietro appunto questi fatti di cronaca lancia anche una sorta di provocazione, quasi la necessità di riscrivere anche un articolo della Costituzione per quanto riguarda l'importanza del sesso nella nostra società. Eh sì, visto che l'articolo 1 della Costituzione, che è il diritto al lavoro, sancisce il diritto al lavoro, è così disatteso, come sappiamo, credo che potremmo partire dal fatto che la Repubblica italiana sembra molto più basata sul sesso a pagamento, dico io, che non invece sul diritto al lavoro, almeno oggi. Ecco, all'interno del libro troviamo anche testi di intercettazioni fondamentali nelle inchieste di cui abbiamo parlato, di cui parli nel libro. Ecco, qual è il confine? Si parla tanto del confine delle intercettazioni. Che cosa è lecito pubblicare, anche se non è di importanza giudiziaria, ma semplicemente appunto rivela fatti importanti per quanto riguarda la moralità o meno dei personaggi politici? Ma io credo che i giornalisti abbiano il diritto, dovere, di pubblicare tutto. Deve essere il lettore a scegliere cosa vuole o può leggere, cosa no. Tutto naturalmente in conformità alla legislazione vigente, che è già molto garantista dal punto di vista della privacy. Il resto è una cortina fumogena per limitare il diritto all'informazione. Bene, ringraziamo Domenico Guarino, ricordandovi che la presentazione ufficiale del libro, Puttanopoli, sarà venerdì prossimo. L'appuntamento è alle 19 a Firenze, in Piazza della Repubblica, alla tenda Edison. Adesso andiamo avanti col telegiornale e spostiamoci a Lucca per un concerto della banda dei Carabinieri che ha celebrato i 150 anni dell'arma in città. Vediamo. Ci sono 150 anni che l'arma è a Lucca, quindi hai voluto festeggiare una specie di compleanno per sancire un po' il nostro legame al territorio, che dura tantissimo tempo. Suonare in una terra che ha visto la prima capitale d'Italia probabilmente significa qualcosa, perché abbiamo visto come ha risposto il pubblico con proprio un afflato di italianità qui a Lucca. Quindi siamo ben contenti perché noi rappresentiamo il nostro paese sempre nelle cerimonie ufficiali e anche quando andiamo a fare i concerti in Italia e all'estero. Siamo tutti musicisti che ci siamo formati nei conservatori nazionali e che poi andiamo a fare parte di questo prestigioso gruppo che è la banda dell'arma dei Carabinieri, che ha una storia lunghissima, che è nata insieme quasi all'arma dei Carabinieri quasi 200 anni fa e quindi è un motivo che ci tiene molto uniti, ci tiano uniti sia la musica che l'essere Carabinieri. E restiamo in Lucchesia, dove è stata avvertita una scossa sismica nella tarda mattinata di oggi dalla popolazione. Lo rende noto la protezione civile, aggiungendo comunque che non risultano danni a persone o a cose. Questa è l'ultima notizia per questa edizione del telegiornale. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi lascio come di consueto dopo la pubblicità con tutte le notizie sportive. Buona serata.